Salve ragazzi, venuti alla seconda bonus battle di Where the Heart Lies qui dovremo affrontare Melti Gemini, un boss che dovrebbe essere se fisico e magico anche se io penso che sia molto più forte magicamente e tra gli obiettivi abbiamo non pedere sul personaggio, colpire la sua debolezza a Loli e dunne la difesa oltre ad essere deboli a Loli e deboli anche a fuoco riduce i danni da Dark tra gli attacchi può fare bio con cui può venire la squadra o un attacco ad aria che può mettere SAP quindi una cura corrigendo può rimuovere questi problemi grazie a tutti in questa battaglia visto la sua debolezza a Loli ho portato selfie già con la burst carica così non solo fra danni oli in più la cura dell'attacco della burst mette anche Regen quindi se dovessi usarla rimuovere il SAP o il Poison o semplicemente usare l'altro comando per fare i danni che vi sa susebolezza se non vanno bene o uguale a presto a presto ecco qui andato non mi sembra un boss eccessivamente difficile fanno dei bei danni l'avete visto all'inizio senza scello mi ha quasi ucciso ricco e dopo comunque mi facevano anche 1300 danni con un attacco però se avete delle buone insomma basta avere un po' di cure e un buon sustain e andate dei danni dei cui loro deboli e le buttate giù praticamente in niente basta tenere la magia bassa e va giù tranquillissimo grazie alla guittazione a breve se riesco a postare i prossimi grazie ciao ciao grazie a tutti